Mascherine e kit per i tamponi esauriti. Continua l'assalto alle farmacie e a Caltanissetta con l'aumento dei contagi, vista le norme richieste durante il periodo a ridosso delle festività, in cui lunghe file fuori dalle farmacie hanno caratterizzato le ultime settimane. I kit dei tamponi e le mascherine per ora non si trovano presso i nostri grossisti ufficiali, quindi c'è una mancanza, dovuta anche al fatto che da oggi c'è il prezzo calmierato, dopo un accordo con Ferber Farma Nazionale, la figliuolo ha dato un prezzo di riferimento che è 0,75 centesimi. In questo momento quelli che abbiamo, li abbiamo comprati chiaramente a un prezzo più basso, questo sarà un periodo di transizione e poi sicuramente ci si adeguerà ai prezzi, così come abbiamo fatto per le mascherine chirurgiche tempo fa. Per quanto riguarda i tamponi non si trovano nemmeno, perché comunque i casi aumentano e la richiesta è mostruosa rispetto a quello che i grossisti hanno. Tutto è introvabile anche online, dove le date di consegna fanno riferimento a febbraio.